pull workout cominciamo da un rematore unilaterale alla macchina quindi andremo a usare la macchina della hammer strength dopo passiamo a tutti gli altri esercizi che ovviamente non vi dico adesso se no non mi guardate il video e dovete vedere tutto quindi andate andiamo insieme vamos ok vediamo quante serie ripetizioni dobbiamo fare non credo tante come vedete abbiamo 14 set in tutta la sessione ci scaldiamo con un ramping facciamo ramping da 8 e niente ragazzi questa qua è la macchina che usava dorian il rematore che usava dorian lui nella sessione lo metteva praticamente la sua sessione funzionava così pullover machine pulldown unilaterale rematore con bilanciere e dopo si sparava questo qua quindi lo utilizzava come quattro esercizio noi lo facciamo come primo quindi dobbiamo caricarci bene il nostro primo esercizio top set sarà bello pesante e basta se avevamo un ramping da otto ramp in un secondo di squeeze e a me personalmente questo esercizio qua piace farlo per tutto il back non solo per il gran dorsale ma perché perché abbiamo la possibilità di allungare bene e di inserizzare bene allungando bene andiamo a ammullare quella che è la spalla io che ho una buona percezione del dorso lo faccio ed è una cosa che per me funziona se voi non ce l'avete vi consiglio di tener la spalla fissa e giocare solo col gomito ok quindi solo il drive del gomito se ce l'avete fate come me allungate bene e strizzate ovviamente portando la spalla indietro andiamo a contrarre quello che è l'upper back portando il gomito indietro invece lavoriamo col dorso ok quindi un esercizio proprio per tutta la schiena lo utilizziamo come primo esercizio proprio lavorandola tutta quanta non caricato tre pizze fino adesso ramping otto rep avremo un set dove andiamo accendimento sulle otto ovviamente dovrà continuare a caricare più o meno so già avendola utilizzata altre volte che il carico è cinque pizze per parte quindi abbiamo altri due set ci scaldiamo bene in modo tale da arrivare belli cotti a puntino ultimo set di riscaldamento recuperiamo a dovere due minuti e facciamo l'ultimo uno due tre abbiamo fatto un braccio non facciamo subito l'altro perché è stato nostro top set ci ha richiesto molta energia perciò anche se comunque siamo sempre ancora sul primo set recuperiamo tra un braccio e l'altro almeno per recuperare l'energia per far l'altro se no così stanco abbiamo accumulato fatica non riuscirei subito a rendere come come dovrei su questo braccio uno uno due tre quattro quattro cinque uno un due 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 vale